però fortunatamente ha messo un ping pong c'è il ping pong il biliardo quindi grandi sfide il ping pong con Locatelli adesso chiederete a lui chi è il più bravo però ce la giochiamo lui pensa di essere più bravo ma sappiamo tutti che sono il più bravo va bene dai adesso vediamo qui sotto il video vediamo cosa sai fare vediamo vediamo adoro parla il tuo 2 a 1 Il giusto il giusto. Qua non è piegata, 9-7, niente. L'avete visto? È la fortuna del cipiante. Chi è il più bravo? Io. Hai perso però. Però ho perso. No, ho più qualità, ha vinto lui, però complimenti a lui, peccato. Vincono i migliori, in solito. Vince chi vince. Vabbè, ho vinto. Vince chi vince. Ho vinto, però sei bravo. Grazie. Per fare strada. Grazie, fa piacere. Non è ancora arrivato il tuo turno. Detto da te che comunque sei un campione, fa piacere. Quindi qua dal centrale di Coverciano, un saluto a tutti i tifosi azzurri. Ciao. Ciao.